Prendiamo atto delle dichiarazioni rese dal terzo uomo, termine in seggia offensivo per Alice e per il diretto interessato. Ricordo a tutti che costui è un testimone d'accusa, da quasi un anno attaccato indiscriminatamente sui media, anche da parte di soggetti che hanno un ruolo processuale nel caso di Alice, questo ci pare grave. Si tratta di una modalità contrastante con i principi di un giusto processo, modalità che rischia di confondere la verità. Nel rispetto di Alice, ma anche della correttezza, auspichiamo un clima più sereno e conforme alle regole processuali in vista dell'udienza. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale! Evermettallica!